ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 7 febbraio 2024 e vediamo subito a chi si festeggia oggi passando per l'almanacco del giorno un santo un po' particolare oggi un santo di cui non si sa veramente se sia esistito o meno ma comunque le cronache lo riportano lo riportano senza avere però la certezza della sua esistenza eccolo qua è san riccardo san riccardo definito re degli inglesi ci sono dei santi la cui esistenza è incerta pensate per esempio a san gennaro che è un santo veramente venerato con grande devozione da tutti i napoletani ma non solo eppure la esistenza certa storica di questo santo non è stata appurata comunque le tradizioni vanno coltivate per cui la chiesa cattolica festeggia oggi san riccardo san riccardo è noto così si narra per aver compiuto un grande pellegrinaggio dal vessex la regione inglese da lui di cui era originario per tutta l'europa fino a roma però giunto a lucca con i propri figli e riccardo morì e qui appunto fu sepolto i figli poi continuarono la loro missione di evangelizzazione un po' su tutta europa e fondarono anche dei monasteri e furono soprattutto collegati ad altri santi questa è un po' la storia di san riccardo comunque auguri a tutti coloro che hanno questo nome complese il nostro regista ed ora passiamo alla previsione del tempo stabile il tempo stabile il cielo spesso offuscato da nubi però insomma il tempo continua a rimanere buono sono un sono nubi alte di passaggio che non effettueranno effetti che non insomma che non oscureranno il cielo temperature massime fino a 15 17 gradi continua ancora un inverno mite ma sembra che l'orizzonte arrivi il gelo invernale venti sono moderati di a sud est per quanto riguarda le coste e sempre sud est per l'entroterra dicevo le temperature 5 gradi la minima 14 15 la massima il mare è leggermente mosso il sole sorge alle 7 e 19 e tramonta alle 17 e 22 ed ora passiamo alla lettura dei giornali aprendo il corriere adriatico sulla pagina di Fano l'apertura è la stessa che appare anche sul resto del carlino quindi le leggiamo entrambi si parla dell'adriatic link questo grande elettrodotto lungo elettrodotto che parte dal nostro territorio da Carrara precisamente e arriverà fino alla costa poi si immergerà nell'adriatico e riemergerà in Abruzzo quindi un collegamento molto molto importante per la fornitura di energia elettrica tra la regione Marche e la regione Abruzzo ebbene qual è la notizia di oggi? la notizia è che il ministero ha firmato il decreto e quindi tutte le operazioni formali, quelle burocratiche sono state compiute la soddisfazione dell'amministratore delegato di Foggia, Giuseppina di Foggia per l'atto del ministro all'ambiente Picchetto Frattin dunque è stato autorizzato l'elettrodotto sottomarino adriatic link che avrà a Fano un suo termine l'inizio o la fine insomma a seconda del punto di vista che lo si guardi l'infrastruttura come abbiamo detto collegherà le Marche e l'Abruzzo ed è lunga circa 250 chilometri di cui 210 sono sotto il mare e i tubi dovrebbero immergersi sulla costa di Metauriglia il gruppo Terna investerà un miliardo e 300 milioni su questa struttura il semaforo verde definitivo è stato acceso da un decreto del Ministero dell'Ambiente risalente ad alcuni giorni fa vediamo come propone la notizia il resto delle Carlino eccolo qua il titolo vediamo anche una fotografia che mostra la planimetria dell'elettrodotto elettrodotto sottomarino che è del Ministero unirà Marche e Abruzzo in autunno inizieranno i lavori però resta aperta la questione di Carrara sappiamo benissimo come sono i carraresi che sopportano i disagi prodotti dall'attività della centrale elettrica che sorge nella loro frazione rumore, disturbi, emissioni, insomma problemi che riguardano la vivibilità e anche la sicurezza dei residenti e che cosa succede? succede che questi hanno chiesto dei provvedimenti compensativi e sembra che la Tec Eterna abbia messo a disposizione 10 milioni di euro per poter fare opere e richieste appunto dei residenti e su queste dovrà ancora decidere l'amministrazione comunale infatti lo vediamo qui, resta aperta la partita delle compensazioni per Carrara dove ci sarà la stazione di conversione dell'energia elettrica ed ora torniamo al Corriere Adriatico e vediamo le altre notizie parliamo di carnevale in un senso un po' critico gli eventi della Proloco ignorati dalla carnevalesca ebbene non tutto ciò che si svolge nel carnevale di Fano è contenuto nel programma pubblicato dall'ente carnevalesca che usufruendo di contributi pubblici dovrebbe farsi un po' da così da divulgatore di tutte le iniziative del carnevale fanese e del carnevale fanese non appartengono soltanto le iniziative proprie della carnevalesca ma ce ne sono altre ugualmente importanti quelle per esempio del Proloco e il Corriere ne evidenzia tre innanzitutto abbiamo domani il castagnolo d'oro che si realizzerà che è una festa che si tiene nella sede della bocciofila la combattente ebbene a questa manifestazione la stessa carnevalesca ha dato il suo patrocinio ma di questa non c'è traccia nel suo programma il castagnolo d'oro una bella gara a chi fa il castagnolo più buono il castagnolo è il prodotto tipico del carnevale di Fano e poi ci saranno anche qui mascherate la festa inizierà alle ore 16 dopo domani invece venerdì sarà la volta del milione dei bambini che si svolgerà sempre alla bocciofila alle ore 16 anche qui mascherine, dolci, giochi via dicendo ma non solo sabato abbiamo anche qui il veglion della gluppa una festa storica che quanto riguarda la gluppa più buona la gluppa una volta lo si portava addirittura in teatro prima al teatro della fortuna poi al politeame insomma si mangiava, si ballava, si faceva festa e questa tradizione viene riproposta dalla Proloco ormai lo fa ogni anno con concorsi di maschere per concorsi per la gluppa più appariscente più buona eccetera ma di tutto questo nella carnevalesca non c'è traccia nel programma della carnevalesca non c'è traccia e quindi si spinge perché si faccia un programma completo per dare ancora più forza e vigore e bellezza al carnevale di Fano vediamo le altre notizie si parla questa volta della scuola in occasione del dimensionamento attuato dalla regione Marchi che ha sollevato la protesta dei genitori dell'istituto comprensivo Gandiglio che è stato smembrato per quanto riguarda le scuole che fanno adesso riferimento su uno smembramento inconcepibile hanno detto i genitori c'è stata un'assemblea alla Gandiglio contro lo scorporo delle scuole primarie e dell'infanzia ebbene non va giù ai genitori la destrutturazione dell'istituto comprensivo per la quale la scuola primaria Gentile e quella dell'infanzia Albero Azzurro sono destinate alla Padalino non si capisce perché insomma c'era una continuità didattica dalla scuola elementare alla scuola media quindi c'erano dei programmi collegati delle attività collegate che ora tutto è da rifare tutto è da ripristinare perché queste due scuole passano ad un altro l'istituto comprensivo e insomma l'istituto comprensivo aggregato a quello di San Lazzaro addio a 21 anni di sforzi e di attività hanno detto appunto i genitori e per quanto riguarda invece la nuova piscina è stata inaugurata la settimana scorsa dalla fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto si precisa che l'apertura al pubblico slitta al 26 febbraio sarà un lunedì un lunedì in cui comincerà veramente l'attività per gli agonisti per gli amatori per coloro che vorranno fare un percorso di riabilitazione all'interno di questa bella struttura e invece in questo articolo di spalla vediamo Paolo Casisa uno degli animatori più vivaci più fantasiosi del nostro territorio che organizza una nuova edizione della rassegna Rock Story si tratta della decima edizione che inizierà sabato prossimo e si prolungherà fino al 6 aprile sono degli incontri che si terranno nella sala didattica della Mediateca Montanari dalle 17 alle 19 il 10 e il 24 febbraio il 9 e il 23 marzo e il 6 aprile l'ingresso è libero però la prenotazione è obbligatoria e intanto prosegue il percorso burocratico del bilancio partecipativo sono stati sorteggiati ieri i 30 nominativi che dovranno formare la commissione che dovrà scegliere i progetti che sono stati presentati ne sono stati presentati veramente tanti oltre 70 dai vari quartieri ebbene la commissione l'amministrazione comunale ha sorteggiato tra tutti coloro che si sono proposti per far parte di questa commissione 30 nominativi 5 per ogni 6 circoscrizioni 6 macrozone in cui è stato diviso il comune di Fano in realtà il comune di Fano doveva essere suddiviso in molti più quartieri doveva essere più parcellizzato si parlava dai 21 ai 27 quartieri questo però ancora non è avvenuto e quindi si è fatto riferimento alle vecchie circoscrizioni e fanno quella volta quando le circoscrizioni erano in atto ne contava 6 per cui 5 per ogni circoscrizione quindi una rappresentanza completa del territorio perché poi si deve vagliare in maniera equilibrata quali progetti finanziati ci sono a disposizione 200 mila euro e lunedì prossimo si sceglieranno veramente i progetti vediamo le altre notizie passiamo a Cantiano e vediamo che per quanto riguarda i contributi per i danni che sono stati provocati dalle alluvioni non tutti chiedono i riscontri non tutti chiedono i ristori forse per mancanza di fiducia nel riaverli forse perché le operazioni burocratiche sono così complesse così difficili che alla fine un privato cittadino non riesce a percorrle non riesce a sostenerle e questo motiva il sindaco a sollecitare coloro che hanno e veramente avuto dei danni a cercare di avere il ristoro perché questo potrebbe arrivare anche al 100% dei danni che sono stati subiti vediamo ancora le altre notizie passiamo a Senigallia a Senigallia c'è una curiosa notizia questa mattina perché per individuare i proprietari dei cani che non si chinano a raccogliere le deiezioni dei propri animali d'affezione si studia un procedimento attraverso addirittura il DNA dei cani allora c'è un consigliere si tratta di Gennaro Campanile consigliere di Amo Senigallia che ha suggerito l'ipotesi di far registrare i cani con il loro DNA e poi quando si trova per strada una deiezione sappiamo benissimo cos'è la deiezione la si prende un piccolo campione la si porta ad analizzare e se si riscontra il DNA delle cane di cui è il proprietario poi si fa la multa al proprietario insomma un procedimento un po' complesso che però potrebbe risolvere questo comportamento di maleducazione che certo non fa onore al decoro della città un test dal DNA sulle feci dei cani così si risale ai padroni incivili e beh se ne studiano un po' di tutti i colori vediamo la pagina di Pesaro ieri un grosso danno all'acquedotto cittadino una valvola da sei quintali scoppia va a K.O. interi quartieri senza acqua un guasto mai visto prima i tecnici di Marche Multiservizi hanno lavorato per diverse ore fino a notte per riparare la rottura è stata la rottura di una condotta in uscita dal serbatoio di San Gaetano nella zona di Villa Fastigi a Pesaro si tratta della cisterna che praticamente alimenta tutta la città di Pesaro e quindi non sono mancati disagi anche se fortunatamente vista anche la stagione questi sono stati contenuti l'erogazione dell'acqua è stata sospesa su tutto il territorio per consentire l'intervento di sistemazione che è cominciato alle 18 e poi si è proseguito è proseguito fino a notte inoltrata ebbene per fortuna poi è stato tutto risolto ma insomma le fotografie dimostrano i danni e la vastità dell'allagamento che si è prodotta ed ora passiamo ad una notizia di cronaca una notizia di cronaca che ci vede come anche nel nostro territorio ci siano i furbetti che adulterano la benzina ai danni appunto di coloro che fanno riferimento nei loro distributori il fatto è avvenuto a Santa Maria dell'Arzilla ma anche fuori provincia a Marzocca Ancona e a Monte San Giusto caporalato e benzina sporca ai clienti caporalato vuol dire dei comportamenti anomali nei confronti dei propri dipendenti e benzina sporca perché non si pulivano i filtri e quindi nella benzina nell'erogatore c'era un po' di tutto scattano comunque arresti e sigilli a quattro distributori ebbene l'accusa è pompe bianche benzina sporca ai dipendenti sfruttati questa è l'accusa che viene mossa dalla procura di Pesaro nell'ambito di un'indagine avviata dagli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro e poi dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro lunedì hanno portato all'esecuzione di tre ordinanze di cautelare personale emesse ordinanze di cautelare personale proprio così dice il giornale emesse dal GIP del tribunale di Pesaro nei confronti di altrettante persone due uomini e una donna i primi due sottoposti alla custodia cautelare in carcere la terza agli arresti domiciliari l'indagine è partita comunque da lontano circa un anno di riscontri di osservazioni e di indagini proprio per scoprire questi fatti dal Natale del 2006 è scomparso nel nulla si tratta di una persona di 41 anni si tratta di Giuliano Gorini che ora i parenti chiedono venga dichiarato morto la morte è presunta da 17 anni non si hanno più notizie di questa persona di Pesaro il padre è deceduto 15 giorni fa dopo averlo cercato ovunque qualche traccia è stata rinvenuta a tempo dietro in Croazia ma non dell'uomo ma di un'auto e poi anche di un volo che avrebbe compiuto però di lui non si è saputo più niente ecco che perché ecco perché i parenti chiedono appunto la dichiarazione di morte presunta a questo punto vediamo la pagina e andiamo a vedere anche la protesta degli agricoltori cibo e acqua agli agricoltori in presidio la gente è con noi noi non ci fermiamo hanno detto gli autisti dei trattori i manifestanti sono comunque soddisfatti per l'andamento della mobilitazione che ha coinvolto tanti tanti agricoltori una mobilitazione che proseguirà fino alla giornata di venerdì alcuni agricoltori hanno passato la notte direttamente sul posto e i cittadini in solidarietà hanno portato loro cibo e qualcosa da bere quindi un bel clima di collaborazione a Urbino la provincia insedia un suo recapito un suo ufficio dopo la nuova dichiarazione che Urbino è effettivamente capoluogo di provincia in ufficio della provincia a Urbino il servizio premia la città capoluogo e l'annuncio del presidente Giuseppe Paolini che ha già individuato la sede una sede che sarà aperta tutti i giorni per i cittadini si tratta di un locale attiguo alla sala Serpieri nel collegio Raffaello una sala che è stata individuata grazie alla collaborazione del comune contiamo ha detto Paolini di aprire il più presto possibile pensa ad aprile nel mese di aprile vediamo ancora la pagina del resto del Carlino abbiamo visto l'apertura dedicata all'Adriatic Link e vediamo ora invece l'articolo che riguarda l'inserimento adesione anzi del comune di Fano alla Green Food Week alla settimana del cibo compatibile del cibo salutare del cibo che fa bene ed è anche gustoso una settimana per sperimentare nuovi gusti e per promuovere una alimentazione a basso impatto ambientale anche per il pianeta ebbene è questo che hanno annunciato l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarini e dal sindaco Massimo Seri a Fano saranno quasi 2.400 le bambine e i bambini coinvolti a questa iniziativa la nostra scelta ha detto Mascarini è quella di contribuire a ridurre in modo importante l'impatto ambientale sul clima perché come tutti gli studi scientifici confermano il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni del gas serra nel nostro pianeta e quindi c'è un duplice vantaggio passiamo alla cronaca una cronaca un fatto di cronaca che riferisce il resto del carlino ebbè può capitare che una ragazza camminando per strada si senta avvicinare da uno sconosciuto che papale papale d'amblè gli dice vuoi fare sesso con me ebbè e questo veramente è capitato è la denuncia di una ventisettenne di passaggio a Fano mi ha fatto una profferta esplicita al mio netto rifiuto ha cominciato a pedinarmi la vittima lo firma col cellulare e va dai carabinieri intercettato il molestatore e un po' insomma è stato un persecutore questo voleva fare sesso con una persona che non conosceva affatto che aveva appena intravisto per strada ed ora invece parliamo del funerale per la morte di Stefano Iacucci una persona molto conosciuta in città l'abbiamo detto anche ieri organizzava tanti tanti pellegrinaggi in modo particolare a Meggiugorie il suo ultimo saluto per lui l'ultimo saluto si è tenuto nella chiesa del ballato folla per l'addio a Iacucci tanti restano fuori perché veramente questa morte lui è morto giovanissimo aveva 62 anni ed era affetto da un male incurabile ha lasciato ha provocato tanta tanta commozione e tanto dolore passiamo anche alla politica mille persone contano più delle vecchie glorie è una presa di posizione dell'assessore Samuele Mascarine candidato sindaco per la coalizione di centro-sinistra il quale replica insomma non è d'accordo con Cristian Fanesi disposto lui a rinunciare alle primarie mentre Mascarine che le ha proposte per primo ed è convinto proprio della necessità di ricorrere a questa consultazione inizia una campagna ancora più determinata per organizzarle dopo l'uscita a favore delle primarie dei candidati sindaci Cora Fattori di più Europa ed Etienne Lucarelli dell'area civica nessun ripensamento neppure da parte di Samuele Mascarini in comune in campagna elettorale ormai da un anno ma ancora insomma questo candidato sindaco né per il centro-sinistra né per il centro-destra né per i progressisti viene fuori e ancora insomma si così si tratteggia si contratta per cercare di individuare la persona giusta dall'Argentina a Orciano il posto dell'anima Mariela Beatrizze Scarbol e il marito Daniele Alberto Bianco si sono innamorati della Val Cesano e hanno deciso di trasferirsi nel nostro territorio definitivamente ebbene questa storia ha un fascino un mix incantevole di natura e storia tra l'Appennino e il mare la vita tranquilla e le persone gentili e accoglienti il nostro territorio continua veramente a esercitare una tanta tanta suggestione non solo nei turisti ma anche in coloro che alla fine decidono di stabilirsi nel nostro nelle nostre colline nelle nostre valli nelle nostre colline pensate a tante case di olandesi di tedeschi che si sono così ammodernate e ricostituite nel territorio tra Cartoceto Isola del Piano insomma le nostre colline anche il resto del Carlino parla della sede della provincia ad Urbino città capoluogo la provincia riapre gli uffici e poi preso nella citra Ducale un ricercato era inseguito per armi e droga l'ordinanza di custodia era stata emessa dalla magistratura siciliana di Siracusa è stato identificato questa persona fermata a Urbino dai carabinieri un componente era un componente di una banda di sei malviventi che si muoveva in Sicilia questi nella mattinata di ieri come riporta il Ducato sono stati raggiunti da misure cautelare per traffico di sostanze stupefacenti porto e utilizzo d'arma comune da sparo ricettazione e detenzione abusiva di armi la banda era attiva nella zona di Siracusa infatti la misura cautelare è stata eseguita su delega della locale procura quindi un'indagine che poi si è propagata fino al nostro territorio siamo in conclusione voglio segnalarvi questo articolo che proviene sempre da Urbino il gruppo speleologico Urbinate celebra il primo quarto di secolo sabato una giornata tutta dedicata all'importante anniversario parleranno i protagonisti delle esplorazioni un gruppo veramente attivo un gruppo intraprendente che ama assondare le viscere della terra e qui vediamo delle fotografie veramente impressionanti in questa immagine eccola qua ossa di morti per la peste nera a Genova sotto l'acquedotto a Santa Lucia a Urbino e in basso Michele Betti uno degli speologi più intraprendenti appunto dell'associazione ebbene le viscere della terra conservano tante tante sorprese anche tante tante meraviglie ma purtroppo anche tanti pericoli e gli speleologi di Urbino sono quelli che riescono a intravedere cose molto belle e molto avventurose questo è tutto per il momento qui chiudiamo la nostra rassegna stampa l'appuntamento è come sempre domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci